Il fatto di essere per otto ore di seguito in un ufficio comunque rendeva la vita abbastanza monotona c'è stata la possibilità di entrare in questa accademia per diventare un artista, per sviluppare videogiochi ho subito approfittato dell'occasione e mi sono iscritto dura un solo anno, è un anno veramente concentrato però ti dà la possibilità in un anno di apprendere il più possibile il fatto di essere artista forse mi aiuta perché comunque è un corso dove posso anche portare avanti il lavoro durante la sera, la notte però richiede sicuramente un grosso impegno questo però non vuol dire che non sia fattibile assolutamente ho trovato veramente degli amici con cui veramente si possono condividere idee, progetti, consigli perché per un artista poi i consigli sono veramente molto utili in ogni progetto che facciamo o che faccio riesco a mettere qualcosa di mio essendo libero di farlo come desidero riesco a crearlo e renderlo il mio progetto preferito riesco a cimentarmi nella creazione di modelli tridimensionali nella creazione di modelli 2D e devo dire che non me lo aspettavo direi di non guardare assolutamente il proprio bagaglio di studio perché non sempre quello è un freno